Il nostro cliente è stato un'efficacità di chi ha avuto il nostro lavoro. Vediamo chi vuoi che ti vieni a portare nel nuovo 500L. Potrei andare con i miei amici, magari, o con i miei amici per un weekend. La mia cucina, la mia cucina. Potrebbe essere meglio. Con qualche ragazza. Beh siamo al Salone di Ginevra, ci sono tante standiste che potrebbero aiutarci nel viaggio. Vabbè, cambiamo un po', anche qualche amico. Ho molti figli, ho 4 figli. Ho sempre avuto un problema con i 500L che non potrei riuscire la mia cucina perché la sala è un po' troppo piccola. Qui c'è la soluzione. Quindi tutto si adatta.